Sciopero dei Benzinai Probabilmente ci sarà uno stop da parte dei Benzinai per quanto riguarda la situazione del nostro paese d'Italia uno sciopero che potrebbe investire questa categoria lavorativa per colpa del famigerato Covid-19, il coronavirus Il governo però sta cercando in tutti i modi di scongiurare uno stop che potrebbe arrivare proprio da questa categoria, dalla succitata categoria, ossia i Benzinai I gestori però riferiscono la situazione e resta purtroppo molto, molto critica e delicata Dunque la situazione non è buona, critica, Faib, Feigice e Fijanisa commentano la conferenza di oggi col governo Non è molto semplice andare avanti anche perché è una categoria che viene ad essere molto penalizzata per colpa di questo maledetto coronavirus Vediamo quello che accadrà Non si sa se ci sarà uno stop, quindi un sciopero da parte dei Benzinai Molti giorni fa, cioè 3-4 giorni fa c'era questo web, la notizia secondo cui i Benzinai facevano sciopero Adesso bisognerà vedere se ciò si verificherà oppure no Stando e sapendo già prima che se ci sarà uno stop probabilmente ci saranno avarici dei trasporti Va bene? Questa è la mia opinione Ringrazio di cuore dell'ascolto per la visione di questo video Iscrivetevi se vi va Comentate Un saluto caro d'Aleandro Un saluto caro d'Aleandro Un saluto caro d'Aleandro